I signori, una storta, coda liscia, felpato e ramoso, consiglieri, alleati, domagici, malfattori, sono dietro di inviuntarvi la mappa del malambrino. Ciao a tutti, non sapevo quando sarebbe uscito questo video e penso che dal titolo avrete capito il motivo. Per cui in quello che spero che sarà il prossimo vedete una piccola correzione perché dico nel video precedente c'è la blind drawing, invece nel mezzo tra la blind drawing e il prossimo troverete questo. Ma veniamo al vero argomento del video, si tratta della mia prima collaborazione con l'azienda, l'azienda in questione è la tua cover personalizzata, di cui vi lascerò il sito. Ma qual è il vantaggio di questa collaborazione? Non è soltanto il fatto che io abbia avuto una cover gratis, perché così è stato, ma l'azienda in cambio della cover praticamente gratis, che altrimenti costerebbe 15,90€, mi ha offerto un cuorice sconto per voi. Prima però vi faccio vedere la mia, ve la mostro prima così, ho praticamente a mano normalmente, poi però siccome non so se quanto si vedrà vi lascio anche una foto. Allora, la cover che ho scelto io è questa. Io non so quello che voi state vedendo. Si tratta della mappa del malandrino, l'ho scelta con le scritte in inglese perché sinceramente in italiano non ho trovato quello che volevo, ma non è un problema. Ho scelto la mappa del malandrino perché volevo qualcosa di potteriano, però il simbolo di Doni della Morte non mi piace. Non vi sto a spiegare i motivi perché sarebbe una cosa troppo lunga e praticamente come ha funzionato. Ho chiesto io la collaborazione a questa azienda, ho trovato, devo dire, molta gentilezza. Un po' lo dicevano già tutti, però insomma finché non si prova, finché non si prova non si sa. In generale, sono stati molto gentili appunto e anzi hanno pregato me di tenere fede alla collaborazione perché pare che ci siano state altre persone che hanno voluto prendere l'impegno probabilmente per accaparrarsi la cover gratis e poi non so, non hanno fatto il video, non hanno ben capito. Io come vedete il video lo sto facendo, oggi è il 25 giugno, ho conto di pubblicarlo in giornata perché la cover mi è arrivata praticamente ieri pomeriggio, però ieri pomeriggio non avevo possibilità di girare il video. Poi cos'altro devo dire, sto andando a ruota e non mi sono scritto niente. I tempi di spedizione in realtà non sono così lunghi, lo sembrano perché giustamente si dà la precedenza ai clienti. Prima io ho fatto l'ordine il 9 giugno, è stato spedito il 21, il 25 non so bene anche ora, penso intorno all'ora di pranzo, anche se poi abbiamo visto la posta il pomeriggio, penso intorno all'ora di pranzo era arrivato. Ci sono già uscito, perché io sapete porto sempre la cabeza al collo, mi sono trovato molto bene. Rispetto a quella che avevo prima, sebbene sia un po' grandina, perché siamo su un Galaxy, però non ho avuto il problema della cover che si staccava completamente. Cioè se si sposta questa qui, probabilmente perché è fatta meglio di quella del negozio cinese, se si sposta riuscite a rimetterla a posto. Quindi, ricapitolando, se voi iscritti volete usufruire dello sconto del 10% che l'azienda mi offre per voi, dovete inserire al momento dell'acquisto un codice sconto che vi lascio nel box informazioni, mi raccomando, guardatelo, sto benedetto box informazioni. Vi lascio anche la pagina Facebook dell'azienda, ve lascio pure la mia, non si sa mai, ve la inviate a vedere ogni tanto. Spero che questa impostazione di video un po' diverso che ho dato vi piaccia. e mi raccomando, non perdetevi il prossimo video, perché è una collaborazione sia divertente da un lato per l'argomento che abbiamo scelto e comunque ci tengo perché fa vedere che è qualcosa di buono ancora in YouTube Italia c'è. Io vi saluto, mi raccomando, se vi capita di passare qui per la prima volta, iscrivetevi al mio canale e alla mia pagina Facebook, taglierò tutte le mie dislessie e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!